Buon salvone, appassionati delle news di calcio, a quanto pare è stato insonirato il tecnico del Brescia, Joseph Clotet, al suo posto pare essere arrivato di viaggio, che conosce anche l'ambiente, visto che ha giocato in società, ma alla base di questo incredibile risultato, cosa ci sarebbe? Secondo il Ciringuito TV, fondo attendibilissimo del mondo del calcio, pare esserci stato un alterco, poi sfociato anche alle mani, ma andiamo a vedere direttamente le parole e sentire le parole del direttore sportivo del Brescia. Ma no ragazzi, sono tutte baggerate ovviamente a frutto della stampa locale per creare chiaramente di sapori nell'ambiente, il tecnico è stato ovviamente diciamo mandato via per scelta chiaramente tecnica a casa del presidente, si è visto che insomma sta soffrendo un po' il ragazzo di allegrite acuta, ricordate le battute insomma non proprio propriamente brillanti del tecnico della Juventus con il discorso dei rugani e dei gatti, il tutto chiaramente viene fatto risalire l'altra sera, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, dove semplicemente Joseph ha dimostrato per l'ennesima volta che fa battute del camarlingo. Stavamo per esempio l'altro giorno andando a cena, dopo una ricca giornata di lavoro, col patch incredibile che sta arrivando nel nostro Brescia, si deve decidere se andare al vietnamita, al cinese, al burundese che piace molto, al presidente, lo stagista a un certo punto ha una brillante idea, dice ma perché non andiamo al sushi? E Joseph ha preferisco andare su snowboard, sì questa arriva dopo, però il problema è che ne manco la peggiore di tutte, l'altro giorno stavamo chiaramente sempre in sede, ci stanno delle bruttissime tende chiaramente, mi fa, senti Franco, io mi chiamo Franco, ma secondo te perché piangono le tende? Io mi dico ma, senti Joseph, sono delle tende, sono inanimate, che camarlingo stai dicendo? E quello mi fa, secondo me perché sono da sole, ma signore, io la pazienza l'ho persa in realtà un mese fa, stavamo in Messico, dovevamo prendere un ragazzo da doppio passaporto, veramente interessante, poi ne parleremo, e mi fa, senti ma Franco, quel gallo in chiesa, che ci fa secondo te? Io dico, senti Joseph, non lo so, sarà una costituzione autocna nel luogo, e quello mi fa, no no, so che fai il chichetto? Partiamo dunque dal voto del personaggio, questo è quello che sono riuscito a fare per avvicinarmi maggiormente a Gigi di Biagio, diciamo che è un po' più giovane rispetto a quello che magari è in realtà, ma non sono riuscito a invecchiarlo più di tanto, outfit assolutamente, tutto elegante, evitiamo cafonate con colori dei calzini che magari non stesse con nulla con tutto il resto, vediamo cosa ci aspetta con questo Brescia. Queste invece sono le aspettative della dirigenza, successo in patria molto alto, a livello invece continentale molto basso, vorrei provare a cambiare magari questo nel corso degli anni, non so quanto durerà questa carriera budget, però devo dire non malaccio, ci sono squadre che hanno anche molti più soldi in CDB, ma abbiamo delle finanze medie e anche forse potremo puntare sui giovani, che dovrebbe essere effettivamente anche un elemento importante di questa carriera, visto anche quanti giovani il Brescia è riuscito a lanciare in questi ultimi anni. Non è facile trovare uno stadio che sia simile a Rigamonti, ma questo bene o male per quello che riguarda gli speratori massimi ci sta, quindi lo rinominiamo Rigamonti. Il presidente Cellino ci ha promesso grandi investimenti, ci crediamo, la prima tecnologia sarà la striatura orizzontale del campo per evitare che si perdano un candreva di turno, favoriamo quindi assolutamente la terna arbitrale. Premessa doverosa per quanto riguarda le impostazioni, chi mi conosce sa che sono un giocatore di football manager, un gioco calcistico gestionale, qui mi trovo invece a prendere il pad alla mano, non lo faccio da tanti anni, quindi partirò con difficoltà campione. Poi ovviamente dovessi rendermi conto che è troppo semplice, via via, potremmo sempre alzare. Non è un problema, per il resto lascio tutto così. Non so se un bug, fatemi sapere magari voi al riguardo, ma queste difficoltà mi sembrano identiche, sempre tre e mezzo, a questo punto vado su quella dove ci sono magari più soldi in premio. Ci dicono subito che il merchandising è importante, si aspettano di incassare 6 milioni dalle magliette. Non so se è realistica questa cosa, perché obiettivamente, come dicevo, è da un po' che non prendo in mano FIFA, ma il mercato è assolutamente aperto, non compreremo ovviamente extra comunitari, ma ora vi spiego anche il perché, non solo perché ovviamente non si possono comprare nella realtà in serie B, ma anche perché qui ci sarà degli obblighi specifici che dovremo andare a rispettare per quanto riguarda la componente del mercato. Sfruttiamo subito l'assist del mercato per mandare i nostri osservatori in giro per il mondo. Ovviamente non penso che lo manderemo in India, non ha assolutamente senso. Voglio mandare sicuramente i miei osservatori in Europa dell'ES per provare a cercare magari qualche talentino meno noto, ma soprattutto dovremo riempirci anche di qualche ausseco. Perché questo? Beh, Brescia è sicuramente una città che nasce tanto tempo fa, circa 3200 anni fa, e sono passati un sacco di culture differenti, ma soprattutto c'è un periodo interessante, quello che, insomma, è durato circa 45 anni, nel 1800, dove c'è stata la dominazione austriaca. Lì Brescia resistette per circa 10 giorni in quello che è ovviamente il movimento del risorgimento italiano, e in quel caso viene anche soprannominata Leonessa d'Italia proprio per questa resistenza. Quello che voglio fare quindi è riportare qualche ausseco, ma soprattutto, e qui sta davvero la, diciamo, originalità di questa carriera, andare a riportare quelli che sono stati magari le leggende del Brescia. Chiaramente non possiamo farli tornare indietro nel tempo. I ragazzi, quindi, cercheremo di trovare qualcosa di simile a quelli che sono stati i giocatori più iconici. Quindi, per esempio, dovremo cercare il nuovo Pirlo, il nuovo Baggio, il nuovo Hubner, Tony, Artobelli, Guardiola, Agi. Quindi, ecco, per alcuni sarà sicuramente più semplice magari andare solo in nazionalità di riferimento e vedere se ci sta magari qualcuno di talento che vale la pena portare in casa. Per quanto riguarda invece Baggio, sono tremendamente difficoltà, perché per me non esiste alcun italiano che possa ovviamente assomigliargli. Magari in quel caso cercheremo qualcosa, se volete, di estero, che possa in qualche modo magari ricordarci le caratteristiche tecniche del divino codino. E' chiaramente molto bello lavorare con i giovani, il Brescia lo fa anche in real life. Ovviamente non possiamo andare a prendere giocatori super famosi, tipo, che ne so, Mucocuo, che poi sappiamo può diventare chiaramente molto forte, almeno me lo auguro, visto che su FM diventa veramente stratosferico. Voglio un po' di realismo, ovviamente, però per quanto riguarda le leggende dovremmo puntare a qualcosa che chiaramente poi diventa forte. Mentre per quanto riguarda il resto, chiaramente possiamo anche prendere i boliti. Non ci sta assolutamente nessun problema. Andiamo a guardare il settore giovanile. Qui dovrete sicuramente darmi voi una mano, perché per quanto riguarda ci sono giocatori sicuramente potenzialmente interessanti, come questo Jonsen, forse anche l'unico davvero interessante, perché gli altri mi sembra che partano da un numero davvero troppo basso. Tra l'altro poi questo Jonsen ha anche una range molto variabile di circa 20 punti, quindi non so se effettivamente ne vale la pena, ma lo andiamo a promuovere in prima scuola. Perché? Perché per quanto riguarda il modulo che dovremo andare a utilizzare, ovviamente mancano tanti elementi. E andiamo a vedere il modulo. La tattica prefida di Gigi Biagio è sicuramente il 4-3. Noi però non abbiamo, almeno all'inizio, la possibilità di giocare così, perché ci mancano gli esterni. In realtà ne abbiamo semplicemente uno che si chiama Galazzi, giocatore giovane. Spero possa anche crescere, ma visto che non abbiamo, diciamo, il Bernanessi e il Chiesa che lui aveva sulle fasce con la nazionale Andre 21, andremo a ripiegare su un 4-2-3-1, che tra l'altro è un modulo che comunque lui ha utilizzato, anche se lui sfruttava sicuramente il giocatore di fasce. Mentre noi facciamo un 4-2-3-1 stretto, perché il Brescia è pieno zeppo di giocampisti centrali. Ma ripeto, appena riusciremo su un mercato a fare qualcosa, chiaramente poi adotteremo, come vi dicevo, lo schema di Biagio, perché questa deve essere anche una carriera realistica. Andiamo a vedere quindi come ho settato questa tattica. Questi sono i duoli. Per quanto riguarda invece le istruzioni da dare alla squadra, abbiamo uno sede di difesa, pressing, una volta persa la palla, ampiezza 40, approfondità 60 in attacco, costruzione di manovra equilibrata, passaggi diretti e anche una caratteristica tipica questa di Di Biagio, quindi ci sta alla grande, ampiezza 50, giocatore in area 6 e forse sono anche troppi. Diciamo che Di Biagio ne portava veramente tantissimi. Con il 4-3, diciamo, si formava un attacco a 5 addirittura, con i due esterni, i due giocampisti centrali che avanzavano, perché dietro rimaneva invece Gaillardini, perno difensivo e poi ci stava la punta centrale. Quindi diciamo che devo ancora decidere se fare 6 o 5, perché ne avrei messi anche solamente 5, ma qua abbiamo di fronte un 4-2-3-1 e non un 4-3, quindi poi andrò a vedere meglio. Angoli e punizioni portiamo meno giocatori possibili, perché devo imparare assolutamente come si battono questi calci piazzati, perché non so assolutamente nulla in tal senso, visto che quando giocavo io non si battevano sicuramente come si battono ad oggi. Diamo uno sguardo anche alle istruzioni per il singolo, come ho settato la punta. La punta l'ho settata così, con rimani centrale, inserisciti alle spalle e rimani in avanti per il supporto difensivo che non deve arrivare dalla punta. Questo perché anche nel 4-3 di Biagio vuole che la punta resti in avanti e che soprattutto si faccia invece una fase di ripiegamento sulle fasce con i due esterni d'attacco. Infatti per quanto riguarda, diciamo, questi ragazzi come li ho settati, rientra in difesa ma entra in aria per il cross, per quanto riguarda il C.O.C. di destra, stesso discorso anche per quello di sinistra, mentre per quanto riguarda quello centrale ho messo i rimani in avanti. Chiaramente questa impostazione ci sta perché questo è un 4-2-3-1 e non un 4-3, ma perché? Perché ovviamente nel 4-3 di Biagio ci sono due mezziali che comunque vanno a fare pressing. Qui questi due mezziali non ce li abbiamo, ne abbiamo solamente uno, quindi lui deve andare a rimanere in avanti. Per quanto riguarda invece supporto per i cross, entra in aria per i cross anche il C.O.C., andiamo invece a come ho settato i due centrocampisti, come se fossero due gagliardini proprio di quell'Italia under 21 di Biagio, con intercetta, le linee di passaggio, ripiega tra i difensori e copertura al centro, sia per quello di destra che per quello di sinistra. Nulla ci vedrà poi con un giocatore particolarmente tecnico di fare una differenzazione tra i due centrocampisti, ma qua bisogna che poi sul mercato arrivi qualcosa, perché al momento sinceramente con un baricentro così bilanciato in avanti è meglio non rischiare con i due C.C. Per quanto riguarda i terzini classico, resta dietro in attacco sia per quanto riguarda quello di sinistra che per quello di destra, per il resto non ho toccato nient'altro. Per quanto riguarda invece giocatori che saranno sicuramente protagonisti in questa avventura, papetti. Devo dire che su Football Manager perlomeno cresce un botto, mi aspetto che qui avendo 19 anni cresca bene anche qui, ma ripeto, non conosco il miglioramento dei giocatori su FIFA per quanto riguarda la crescita. Dopodiché Adorni, e qui diciamo che lui non giocherà, perché giocheranno Cistana e papetti, quindi qui si può decidere anche magari di mandarlo via, solo che obiettivamente non è così vecchio, c'ha 29 anni, è un giocatore che potrebbe essere sicuramente utile come Super Sabba, e quindi ci sto ancora pensato, però potremmo metterlo magari anche in vendita per raccattare qualche soldino. Per quanto riguarda altri giocatori da vendere, sicuramente Viviani, perché non giocherà a titolare, ha già 30 anni, andale, andale, arriva-riva. Poi Bisoli, questo era il protagonista del centrocampo, ora se non dico una fesseria, questo dovrebbe essere il figlio di quel Bisoli che giocava nella Brescia, dove ci stava anche Baggio nei primissimi anni 2000. Mi sembra che ha giocato semplicemente un anno, credo che si chiamasse Pierpaolo, una cosa del genere, quindi diciamo che lui deve essere il fil rouge proprio con quel Brescia, quindi sarà sicuramente protagonista. Do invece, andale, andale anche lui, perché 25 anni, 67 di overall, mi sembra veramente troppo basso, quindi se ci sta qualche offerta, sicuramente andrà via. Ora, non penso che crescano oltre 25 anni sul filo, ma qua chiaramente potete dirmi che mi sbaglio, perché ne so, vi ripeto, poco. Per quanto riguarda invece il resto, penso che possiamo andare via anche Garofalo, perché sì, c'ha 22 anni, per carità, ma non è che sia poi un overall fantasmagorico, quindi potrebbe sicuramente andare via e fare spazio a chi merita, a chi potrebbe meritare. Non lo so, Giacomo Holzer, secondo voi potrebbe essere un giocatore su cui puntare o è davvero troppo scarso? Ci sto ancora pensando. Nel frattempo sicuramente diventa fondamentale perché non ci sono C.O.C. Per il resto potremmo anche tenere in considerazione lui come C.O.C., altro olandese, diciamo, della team, però anche qua ha 27 anni, non è che poi abbia un grande overall, anche qui sto perdo di mandarlo via. Qualora arrivasse, chiaramente, qualche giocatore dal mercato. Galazzi, io lo andrei a riconvertire in C.O.C. se non troviamo altri giocatori esterni e manteniamo appunto il 4-2-3-1 stretto. Queste, quindi, le finanze non sono bassissime ma non sono neanche decisamente elevate per andare a fare una rivoluzione, quindi penso che al massimo ci concentreremo su due sbarra tre acquisti. Dovremmo sicuramente comprare qualcosa in avanti. L'attaccante penso che mantenremo quello che abbiamo perché sì, non è fortissimo, ma, ripeto, i soldi non ci sono. Cosa andiamo a comprare sul mercato? Sicuramente più di qualcuno ci ha pensato al grande ritorno di Mario Balotelli al Brescia. Devo dire che ha un overall sicuramente importante. Immagino che non si muova più considerando, insomma, l'età e soprattutto, diciamo, la testa non pratica ad allenarsi ma il problema insormontabile è il valore. Quindi giocatore come questo probabilmente non arriverà almeno non alla primissima stagione e poi magari se nella seconda stagione è ancora un oggetto interessante potremmo prendere in considerazione ma per il momento è no. Uno dei grandi vantaggi di Football Manager è sicuramente il database. Non ha eguali, veramente enorme. Mi ha fatto conoscere negli anni tanti giocatori interessanti ed è per questo che almeno quattro elementi li metterò subito ad osservare. Uno di questi è Pablo Torre. Ok, viene dal Barcellona ma non gioca assolutamente nel Barcellona. Giocatore giovane che potremmo andare a prendere. Ricordo che altri talenti del Barcellona sono andati in campionato veramente scrausi. Penso per esempio a Ricky Puig. Penso che lui potrebbe avere la chance di venire a giocare con noi. Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe molto. Ricorda alla lontana magari un po' Guardiola. Diciamo che lui gioca un po' più avanti ma è un giocatore tecnico che a noi farebbe sicuramente comodo visto che ci mancano tanti C.O.C. Da regolamento di questa avventura ci servirebbe andare a prendere il sostituto di Agi quello che viene definito a suo tempo il Maradona dei Carpazzi e perché magari non pensare proprio al figlio. Beh, sicuramente non è realistico che un giocatore comunque dei Rangers venga a giocare in Serie B visto che può giocare eventualmente anche la Coppa. Qui non siamo di fronte al ragazzo ancora che deve crescere. Sì, è sicuramente giovane ma ha già 23 anni quindi sarebbe complicato portarlo da noi anche se sarebbe bello perché è sicuramente un giocatore che potrebbe giocare proprio sulle fasce e farci magari acquisire anche la possibilità di giocare con il 4-3-1 ma direi che per il momento lo metto in disparte perché mi sembra un po' poco realistico ma fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente nei commenti ci sono altri due elementi di cui vi vorrei parlare ma non lo faccio quest'oggi per se no vi spoilerò tutto ma ci vediamo quindi con il prossimo episodio dove andremo a scoprire chiaramente altri talenti vi ricordo che devono essere giocatori che possono magari in qualche modo diventare forti solamente se in qualche modo ricordano le leggende del breccio del passato e tutto il resto non deve essere assolutamente un giocatore magari che può diventare interessante ma può tranquillamente essere anche una sorta di ripiego che potrebbe anche essere chiaramente poi scambiato, venduto in continuazione ma c'è anche una piccola chicca e qua ancora una volta mi servirà il vostro aiuto come andiamo a sostituire i fratelli filippini ok gemelli è difficile trovarne però almeno fratelli come coppie esistono che siano addirittura centrocampisti lì andiamo ancora più in profondità sarebbe ancora più complicato però voglio proprio vedere cosa mi caccia di fuori nei commenti vi ricordo che a tempo fa facciamo anche una diciamo challenge con football manager con tutti i giocatori fratelli all'interno di un team come per esempio i fratelli Mandandai i fratelli Pogba e tutto il resto chiaramente non possiamo compare giocatori strafamosi non possiamo prendere gli azzardi e compagnia bella ma dovremo cercare una soluzione alternativa però ripeto aspetto veramente vostre idee questa è la carriera fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ma soprattutto voglio nomi e voglio tanto aiuto perché ripeto io su FIFA sto ritornando semplicemente da oggi buon savore grazie a tutti grazie a tutti